Non c'è pace per i concessionari di spiagge che in seguito all'intervento della Commissione europea tornano a preoccuparsi per l'estensione delle concessioni demaniali marittime che la CNA ha chiesto di estendere fino al 2033. Misure già approvate per la provincia di Pesaro e Urbino che vanta quasi 50 km di costa con oltre 170 imprese sui comuni di Gabiccemare, Pesaro, Fano e Marotta-Mondolfo. Finalmente siamo arrivati alla definizione di tutte le concessioni abbiamo avuto l'allungamento del termine al 31 dicembre 2033. È stato un lavoro comunque abbastanza laborioso e complicato anche da parte dell'ufficio perché tutto questo è avvenuto con una procedura tecnica abbastanza complessa che comunque ha portato la tutela sia dei concessionari sia delle amministrazioni. Questa procedura è stata presa ad esempio anche da altre amministrazioni nazionali. La situazione italiana è molto variegata, veramente a macchia di leopardo, nonostante il DPCM sia datato dicembre 2018, quindi sono passati ben due anni, e ci sono comuni dove ancora questa estensione non viene data. Tutta la costa adriatica specialmente, ma anche nel resto d'Italia, gli stabilimenti balneari fanno capo a imprese familiari o comunque a piccole e piccolissime imprese e quindi assolutamente tutelare queste imprese vuol dire tutelare il lavoro e non esclusivamente i capitali finanziari o i speculatori finanziari. Venerdì prossimo avremo un incontro, naturalmente per la sicurezza di tutti via web, avremo una call con onorevoli e senatori come CNA Balneari, proprio per parlare dell'argomento e capire come il governo italiano voglia muoversi. E nel frattempo sono ormai in partenza gli interventi di manutenzione previsti per il litorale pesarese. Attendevamo degli interventi di manutenzione sulle scogliere di Ponente da più di 30 anni, dall'89, interventi di manutenzione che non sono mai stati fatti e finalmente a breve, è proprio questione di pochi giorni, si aspetta che anche le condizioni meteo si stabilizzano, questi interventi verranno finalmente fatti. Noi dobbiamo occuparci della manutenzione del territorio, di poter attrarre i turisti, non possiamo disperdere le nostre energie, sia noi operatori turistici, ma anche la politica locale, dietro a queste situazioni burocratiche.